Io lavoro con la luce, disegno con la luce, lo faccio proiettando le mie opere che sono realizzate con olio, grafite e painting digitale su grandi facciate di edifici, l'ho fatto a San Paolo, San Pietroburgo, Ierevan, penso per esempio al lavoro sulle periferie, realizzato anche a Napoli, a Roma, a Lisbona, ma penso anche al lavoro più recente che è Red Venus dove ho proiettato due grandi affreschi nella sala della Meridiana del Museo archeologico nazionale di Napoli. Ecco, la luce può creare armonia, può aumentare la qualità della vita in certi centri urbani, può per esempio superare la frattura che esiste tra centri urbani illuminati in maniera armoniosa e periferie lasciate al buio o illuminate in maniera troppo violenta.